Si va calmando la violenza urbana francese. Tra domenica e lunedì non si sono ripetuti disordini delle sei notti precedenti, con eccezione di Neu-sur-Marne, a est di Parigi, dove la polizia ha usato gas lacrimogeni contro la folla e nella città di Lione, dove sono state incendiate diverse auto. Un giovane vigile del fuoco è morto nel tentativo di domare le fiamme in un parcheggio sotterraneo nel comune di Saint-Denis. 157 le persone arrestate la notte scorsa e rivoltosi che danneggiano strutture pubbliche, che saccheggiano negozi, hanno in media la stessa età di Naelle, il 17enne di origini algerine, ucciso da un colpo di pistola sparato da un agente a Nanter, la cui morte ha scatenato nei giorni scorsi, violenze nel paese ancora sotto shock per l'attacco alle Isle Rose contro la casa e la famiglia del sindaco. E in questi minuti a scendere in piazza davanti ai municipi in Francia sono i primi cittadini per una mobilitazione civica, un ritorno all'ordine. domani 220 sindaci dei comuni che hanno subito saccheggi saranno ricevuti dal capo dell'Eliseo Emmanuel Macron. Circa 45.000 gli agenti dispiegati per fermare le proteste giovanili che hanno infiammato la Francia. Ieri è intervenuta la nonna della vittima. Fermatevi, ha implorato la donna. Non distruggete scuole e autobus usando il nome di Naelle come pretesto.